Benvenuti, viaggiatori. Io sono Grizzly. Buongiorno! Ciao, Grizzly. Sono le 9-5. Oggi è il tuo compleanno. Tanti auguri! Bene, sabato 18 settembre 2021 è stato il mio compleanno, e voglio fare qualcosa di leggermente diverso dal solito. Sul mio canale YouTube ho sempre cercato, dove è possibile, di dare visibilità ad altri canali YouTube, a qualcosa che ho trovato interessante qui sulla piattaforma. Nel frattempo si sono lanciati dei progetti, come il progetto Unity, o altri modi di cercare di far conoscere altri youtuber. Oggi voglio presentarvi, visto che faccio 45 anni, 45 canali YouTube italiani e stranieri che trovo interessanti, così tutti di botta. Per cui cominciamo questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the road, edizione, nello studio, speciale compleanno. Alan Spicer, un grande esperto della piattaforma di YouTube e delle dinamiche sociali che vi aiuterà a diventare un pochino più esperti sull'uso di questa piattaforma, e in generale per spingere voi stessi sui social. Andy Elliott, Craft & Creations. Adesso pubblica molti meno video, perché ha poco tempo a disposizione, ma ha fatto tantissime cose di attività manuali, di lavori manuali, e ora si è specializzato nel costruire degli alberi e delle situazioni particolarissime utilizzando il filo di rame, ed è veramente qualcosa da scoprire. Tra l'altro tra i suoi progetti ci sono delle cose veramente bellissime. Applied Science. Per cercare di capire come funzionano le dinamiche di di alcuni oggetti di tutti i giorni, ma anche le dinamiche di quelle che sono le leggi della fisica e della scienza. Atlas Survival Shelters, un americano repubblicano che realizza bunker anti-atomici, strutture di sicurezza, strutture per prepper… quantomeno è un modo particolare di guardare a un certo tipo di americani, diciamolo tranquillamente. Becky Stern, radioamatrice, appassionata di dinamiche nerd, appassionata di apparecchiature nerd, di arduino, di programmazione, di lavori manuali… non vi dico nulla, faccio solo un gesto. Bounded Mind, riassunti e viaggi mentali, disegnati con uno stile… beh, diciamo tutto suo, eppure veramente divertente e d'intrattenimento. Brandwehr Lunteren. Credo. Brandwehr Lunteren. Più o meno dovrebbe essere quello. Una piccola caserma dei Vigili del Fuoco di un piccolo paesino in Olanda, sono Vigili del Fuoco volontari e credono molto nel loro lavoro, abbastanza che uno di questi Vigili del Fuoco ha un negozio di articoli per animali e una pertica per uscire di casa. Kal-El. Autore fantasy, appassionato di cinema e argomenti nerd e che non ringrazierò mai abbastanza per avermi fatto scoprire che stava uscendo una serie su queste oscure materie. Canuzzi. Zachary è un canadese, appassionato dell'ambiente di lavoro Apple, ma appassionato in generale della tecnologia. Dimenticavo, ha dei lontani parenti qui in Italia e per questo la sua rete Wi-Fi si chiama porca miseria. Cartoni morti, perché Andrea Lorenzo-On ha un umorismo particolarmente irriverente ed è riuscito a farlo sbocciare. CGP Grey, perché con dei cartoni animati estremamente semplici è possibile parlarci di storia e di tecnologia. Ciao Internet Matteo Flora. Matteo è un nerd e Matteo ci parla dei lati oscuri della tecnologia, ma lo fa parlandoci soprattutto delle implicazioni con la vita di tutti i giorni. Colin Foerz, perché, per esempio, chi non vorrebbe provare a mettere un motore a reazione su un triciclo? Diod Gone Wild. Dalla cechia, un appassionato di elettronica che, aiutato dal suo gatto, analizza circuiti elettronici, apre le cose, prova a ripararle, prova a metterle in funzione, prova a capire come funzionano, fa delle analisi molto, molto interessanti su tantissimi circuiti elettronici ed elettrici. Doctor Game The Phantom Castle, perché è facile dire che uno conosce videogiochi, ma bisogna conoscere anche la storia, quello che c'è dietro, quello che c'è dietro le console, la storia delle console, lo sviluppo. Tantissimi argomenti sui quali può essere veramente molto, molto interessante approfondire. Ephraim's Adventure, dall'amico del canale Ephraimstube, un canale dedicato interamente ai parchi di divertimento. Electro Boom, perché giocare con la corrente elettrica può essere pericoloso, ma soprattutto per sapere finalmente cos'è un FULL BRIDGE RECTIFIRE! Gianni Pirola, fai da te, che è un maker molto, molto bravo, in tantissime occasioni riesce a farci prendere roba che è magari parcheggiata in garage da anni e ce la fa recuperare in maniera veramente molto intelligente. GioPizzi, il canale di Giovanni Pizzigoni destinato all'approfondimento delle dinamiche storiche e delle dinamiche politiche. Elpo, dell'amico Daniele e dell'amica intelligenza artificiale ARIA, una guida molto intelligente per migliorare la propria vita grazie al digitale. Ian. Così come il mio è un canale di viaggi lungo la cultura, quello di Ian è un canale di viaggi di approfondimento lungo moltissimi argomenti. Il canale di Ale, perché è anche bello viaggiare, scoprire posti nuovi e scoprire posti che si possono visitare molto velocemente, eppure trovare tante piccole perle. Il trono del muori, perché è bello sapere come funziona una cosa avendo a disposizione un riassunto, ma talvolta è molto più bello capire come funziona una cosa con un riassunto che può essere persino più lungo della cosa che si sta riassumendo, purché sia d'intrattenimento e che ci siano le analisi giuste e le domande giuste, forse. It's ok to be smart, perché talvolta è molto bello approfondire determinati argomenti scientifici o naturalistici. Kobato official, perché una cantante, un'appassionata di musica, un'insegnante di canto è una nerd, ed è bellissimo tutto quello che fa. La fisica che non ti aspetti, dove il Cuso ci permette di approfondire tantissimi argomenti legati alla fisica in quella che è la vita di tutti i giorni. Infatti, come ci dice lui stesso, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate. Lemmy No, che è un canale svedese come il buon Felix, però a differenza di Felix non ci porta dei gameplay, ci porta degli approfondimenti molto, molto, molto ben curati. Non escono tantissimi video, ma ogni volta che esce un video è veramente un'opera d'arte, quindi vi consiglio veramente di andare a dargli un'occhiata. Lo scribacchino, perché è un copywriter, un appassionato di fumetti, di argomenti nerd e di Harry Potter. Inoltre, si è persino beccato una bella sponsorizzazione da Enrico di Watchmojo Italia. Ludo Thorne, perché è un bravissimo doppiatore e perché ha un gatto Sphinx, non necessariamente in questo ordine. Matt Herding, perché è un pessimo ballerino, diventato virale ballando per tutto il mondo. Maya Polar Bear, perché ci sono adulti che si prendono un samoyedo solo perché non vogliono ammettere che vorrebbero un pupazzo di veluche. Mighty Pirate Project, perché lui è Mighty, un temibile recensore. Mvvblog, perché Marco Valleggi è un nerd cinquantenne simpaticissimo. Padre Cain, la risposta alla domanda che forse non si era fatto nessuno, ma gli atei vanno ammessa. Periodic Videos, perché l'Università di Nottingham ci fa scoprire che è possibile approfondire ognuno degli elementi della tavola periodica. Photo Induction, perché in tantissimi abbiamo visto quel video virale del tizio che getta un mattone dentro una lavatrice fino a farla cappottare, ma in pochissimi sanno che questo tizio ha un trasformatore ad alta tensione in casa e lo utilizza per gli esperimenti più assurdi. E non solo. Polemica in pillole, perché la biologia, la scienza e la medicina non sono cose che impari guardando un paio di video su YouTube. RT Poop, perché il montaggio, l'editing e la composizione possono diventare una grandissima forma d'arte. Simon Scat, perché su YouTube a tutti piacciono i gattini, giusto? Stefano Baglio, perché sì, dalla YouTube Poop si può arrivare ai crossover più interessanti ed improbabili. Studio 188, perché i film che sono stati realizzati con grandissimi budget, forse era possibile realizzarli a costo zero o quasi zero… forse. The Action Lab, perché la scienza è bella anche da toccare con mano. Tom Scott, perché è un nerd, un grande intrattenitore, ma soprattutto un grandissimo innovatore della piattaforma di YouTube. Viva la Albe, perché talvolta le cose possono essere difficili, complesse, allora c'è bisogno di una guida, di un aiuto, di una spiegazione, ed ecco che Alberto ci saprà aiutare a fare la scelta giusta. What's Inside, perché è bello sapere che c'è una cosa che funziona, ma è ancora più bello sapere come funziona, com'è fatta, quali sono i suoi segreti celati all'interno. Bene, questi erano 45 canali che trovo molto, molto interessanti. Voi che mi dite? Li conoscevate già tutti? Ne conoscevate qualcuno e qualcuno no? Non ne conoscevate nessuno? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter, con l'hashtag ddvotr. Io sono Grizzly e vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, e per tutti gli auguri che mi sono arrivati sui social e che mi arriveranno anche sotto questo video. Vi ricordo di mettere pollice in alto e condividere, e come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie a tutti!